Prefetto di Sondrio, Carmelo Casabona, lascia il capoluogo valtellinese, dove è arrivato il 9 ottobre 2012, per prendere servizio alla prefettura di Vivo Valencia, lunedì 11 gennaio. Casabona, originario di Caltanissetta, classe 1953, proprio a Sondrio aveva iniziato il suo lavoro nella squadra mobile della Questura, dopodiché la sezione omicidi della squadra mobile di Palermo, la criminal pol di Milano e Catania, negli anni caldi delle guerre di mafia, che lo costrinsero anche ad un periodo a Brescia, con la moglie e i tre figli, sotto protezione dello Stato, una esperienza dura che non ha impedito a due dei suoi figli di proseguire sulle orme del padre entrando in polizia. Dopo gli anni d'azione in prima linea sono arrivati quelli nella dirigenza e da quest'ore fino alla nomina prefetto nella nostra provincia, che oggi, dopo poco più di tre anni, passati con una certa serenità, si prepara a lasciare. Io sono contento di fare il prefetto a Vivo perché so di andare a affrontare delle problematiche importanti. Però ho scoperto che ci sono lì tanti miei amici, chi fa quest'ore, chi dirige la scuola e quindi questo mi rassicura, perché quantomeno posso contare su alcune persone importanti nell'ambito del sistema sicurezza. Tornerà utile la grande e lunga esperienza maturata negli anni caldi delle guerre alla mafia, anche mentre si trovava poliziotto in Sicilia. Questo mi aiuta a capire e a leggere gli eventi, perché un poliziotto deve anticipare le situazioni. Certamente io non faccio più il poliziotto, è un territorio molto duro, quindi si ha a che fare in continuazione con le problematiche di estorsione, di bombe, di omicidi, quindi è chiaro che ci si è allenati. Quindi so di trovare anche una struttura molto attrezzata, diciamo, come polizia di Stato e come arma dei carabinieri della finanza. Quindi sono tre realtà importanti sul territorio ben attrezzate. Tornando a Sondrio, qui rivestì il suo primo incarico nella squadra mobile e qui rivestì il suo primo incarico come perfetto. È una coincidenza simpatica, perché in qualche modo ho iniziato i miei percorsi professionali qui a Sondrio. Cosa porterà con sé questa volta? La possibilità di stare in un territorio senza traumi, goduto finalmente la presenza di mia moglie accanto, cosa che non ho mai avuto, i miei figli che sono venuti spesso a trovarmi. Un periodo che mi consente di aver trovato una tranquillità sotto l'aspetto diciamo così familiare e ora posso affrontare con la grinta necessaria un incarico molto importante. Come è stato il suo rapporto con la cittadinanza? Con la cittadinanza la tengo splendida, perché io, come ben sapete, spessissimo camminavo a piedi, non andavo in macchina e lo facevo apposta perché mi piaceva incontrare le persone. Penso di continuarlo anche a vivo questo tipo di metodo. Quello nella città calabrese potrebbe essere l'ultimo incarico del prefetto prima del ritiro dall'attività lavorativa che anticipa, aspira a trascorrere con serenità nella Casa al Mare in Sicilia.